Se dovessi descrivere FitFed by Fede in brevissimo, direi che è una skin care perfetta per chi non si ferma mai. Parlo un po' di tutte quelle persone che hanno delle giornate veramente molto impegnative, corrono da una parte all'altra e abbiamo creato una linea di prodotti che potesse accompagnarli all'interno di queste giornate. Credo sia fondamentale cercare anche solo 5 minuti del proprio tempo da dedicarsi per una coccola. Ho scelto di collaborare con Alma Kay perché è un'azienda che nel settore ha più di 10 anni di esperienza e soprattutto abbiamo messo in campo gli stessi valori, quindi la nostra intesa è stata subito perfetta. Volevamo fondamentalmente creare un prodotto che fosse facile da usare, veloce, efficace e soprattutto che contenesse la più alta quantità di prodotti naturali. Conoscendo la quotidianità delle donne più impegnate, sapevamo che dovevamo creare un prodotto che le aiutasse a sconfiggere tre componenti fondamentali. Stress, stanchezza e disidratazione. Provali anche tu e vedrai la differenza. Fit Fede by Fede, una skin care perfetta per chi non si ferma mai proprio come me.